Io, dal Virginian, ci scesi il 21 agosto 1933. C'ero salito sopra sei anni prima, ma mi sembrava fosse passato una vita. Non ci scesi per un giorno o per una settimana, ci scesi per sempre, con i documenti di sbarco e la paga arretrata e tutto quanto, tutto in regola, avevo chiuso con l'oceano. Non è che non mi piacesse quella vita. Era un modo strano di far quadrare i conti, ma funzionava. Solo non riuscivo a pensare veramente che potesse andare avanti per sempre. Se fai il marinaio, allora è diverso. Il mare è il tuo posto. Ci puoi stare fino a schiattare e va bene così. Ma se uno suona la tromba, beh. Se suoni la tromba, sul mare sei uno straniero e lo sarai per sempre. Prima o poi, è giusto che torni a casa. Meglio prima, mi dissi. Meglio prima, dissi a Novecento. E lui capì. Come sono andate le cose, poi, dopo esser sceso da là, quella è un'altra storia. Magari mi riusciva perfino a ricombinare qualcosa di buono, se solo non si ficcava in mezzo con la dannata guerra, pure lei. Quella è stata una cosa che ha complicato tutto. Non si capiva più niente. Bisognava avere un gran cervello per raccapezzarsi. Bisognava averci delle qualità che io non avevo. Io sapevo suonare la tromba. È sorprendente come sia inutile suonare una tromba quando c'hai una guerra intorno. È addosso che non ti molla. Comunque, dal Virginian di Novecento, non seppi più nulla. Per anni. Non che me ne fossi dimenticato. Insomma, era una storia finita quella. Che sembrava proprio finita. Poi un giorno mi arrivò una lettera. Me l'aveva scritta Nilo Connor, quell'irlandese che scherzava in continuazione. Quella volta, però, era una lettera seria. Diceva che il Virginian se n'era tornato a pezzi dalla guerra. L'avevano usato come ospedale viaggiante. E alla fine era così mal ridotto che avevano deciso di buttarlo a fondo. Avevano sbarcato a Plymouth il poco equipaggio rimasto. L'avevano riempita di diunamite. E prima o poi l'avrebbero buttata a larghe per farla finita. Boom. E via. Poi c'era un po' scritto. Novecento. Lui mica è sceso. Solo quello. Novecento. Lui mica è sceso. Io mi rigirai la lettera in mano per dei giorni. Poi, presi il treno che andava a Plymouth. Andai al porto, cercai il Virginian, lo ritrovai. Diedi un po' di soldi alle guardie che stavano lì. Salì sulla nave. La girai da cima a fondo. Scesi alla sala macchine. Mi sedetti su una cassa che aveva l'aria di essere piena di diunamite. Mi tolsi il cappello. Lo posai per terra e rimasi lì. In silenzio. Senza sapere cosa dire. Fermo lì a guardarlo. Fermo lì a guardarmi. Dinamite anche sotto il culo. Dinamite dappertutto. Danny. Budman. T.D. Lemon. Novecento. Avresti detto che lo sapevo che sarei arrivato. Come sapeva sempre le note che avresti suonato e... Con quella faccia invecchiata, ma in modo bello. Senza stanchezza. Niente luce sulla nave. C'era solo quella che filtrava da fuori. Chissà la notte com'era. Le mani bianche, la giacca ben abbottonata, le scarpe lucide. Mica era sceso lui. Nella penombra sembrava un principe. Mica era sceso. Sarebbe saltato insieme a tutto il resto in mezzo al mare. Gran finale tutti a guardare dal molo e dalla riva. Il grande fuoco d'artificio. Addio e giù il sipario. Fumo e fiamme. Un'ondata grande alla fine. Danny. Budman. T.D. Lemon. Novecento. In quella nave ingoiata dal buio, l'ultimo ricordo di lui è una voce. Quasi soltanto. Adagio. A parlare.